Si è tenuta nella mattinata del 20 ottobre scorso presso la sede dell'EPT di Salerno la conferenza stampa di presentazione della 19esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum. Nel corso della conferenza importante annuncio dell'assessore Matera il quale ha comunicato che nell'ambito della Borsa Mediterranea 2016 di Pestum si terrà nel giorno del 27 ottobre la riunione degli assessori al turismo di tutta Italia per precisa volontà della conferenza Stato-Regioni. La conferenza stampa è stata l'occasione anche per fare il punto sul codice del turismo. È stata completata, ha detto Matera, la ricognizione normativa che porterà la campagna ad avere il testo unico del turismo, strumento normativo fondamentale per lo snellimento delle procedure e la realizzazione della materia turistica. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, dichiara l'assessore alla cultura Donatella Pannullo, è l'appuntamento annuale più importante per quanto concerne la promozione turistica archeologica internazionale. Per il nostro territorio è una vetrina insostituibile che porta numerosi visitatori ed addetti ai lavori in un periodo di relativa bassa stagione. Quest'anno per la nostra città sarà un onore poter ospitare a Pestum l'incontro annuale di tutti gli assessori regionali d'Italia nell'ambito della conferenza Stato-Regioni.